Paddy Power e Betfair puntano tutte le proprie carte sulla fusione. I due pezzi da 90 del gioco d'azzardo e delle scommesse, di fronte a tasse sempre più alte e a leggi sempre più stringenti, hanno deciso di inforcare il sentiero già battuto da molte altre aziende del settore. I dettagli operativi non sono ancora stati definiti, ma l'operazione, in azioni, porterà alla nascita di un gigante del gioco con un miliardo e mezzo di euro di entrate annuali. Gli azionisti del bookmaker irlandese ne possiederanno il 52%, il resto delle quote andrà agli investitori del sito di scommesse online.